signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai e il vostro ospite su questo canale e continuiamo la mini serie dedicata al remake delle fondamenta del dungeon andando a parlare del secondo elemento fondamentale del sistema che come avete capito al titolo del video saranno i corridoi prima però un'informazione di servizio a fine mese ci sarà il video per il compleanno del canale come oramai è tradizione da nove anni raccoglierò e risponderò tutte le domande che mi farete quindi se c'è qualcosa che volete chiedere non specificatamente legata a un video ma legata a me o il canale in generale scrivetele nei commenti qui sotto perché poi io le raccoglierò tutte per un paio di settimane poi dovrò girare il video non ci sarà più tempo e mi raccomando tenete anche d'occhio i social perché anche quest'anno se riesco voglio fare i racconti al terrore di halloween ma di questo parleremo meglio più avanti tornando a noi i corridoi sono quello che collega le stanze tra di loro sono quello che collega le scene tra di loro e per dirla semplice sono quello che trasforma la vostra quest da un mucchio di scene scollegate a un vero racconto coerente ma quindi cosa sono esattamente i corridoi e perché sono importanti e come bisognerebbe utilizzarli lo vediamo nel resto del video come praticamente per qualsiasi cosa all'interno del metodo del dungeon quando parliamo di corridoi stiamo parlando di due elementi distinti a seconda di quanto in alto in basso ci spostiamo nella concettualizzazione del nostro dungeon come abbiamo visto nel primo video di questa serie il metodo del dungeon è la trasposizione a livello logico di quello che è il dungeon fisico presente all'interno del mondo di gioco per cui per ogni elemento fisico di un dungeon vero e proprio ne esiste uno equivalente astratto che va a formare il metodo nel nostro caso quelli che nel dungeon fisico sono i veri e propri corridoi che collegano le stanze del dungeon tra loro a livello di dungeon logico i corridoi sono i collegamenti che avvengono tra una scena e l'altra e che vanno a definire la natura sequenziale del racconto se vi siete persi il primo video della serie in cui spiego la natura e la separazione tra gli elementi logici e gli elementi fisici del dungeon ve lo lascio linkato qua sopra perché nel caso dei corridoi le differenze sono sostanziali e quindi in questo video converrà proprio parlarne come due cose separate cominciamo con la parte più importante da ricordare perché si applica a qualunque livello voi vogliate utilizzare il metodo del dungeon quando parliamo di corridoi logici all'interno di un dungeon andiamo a intendere quelli che sono i collegamenti di causa effetto tra le varie scene che comporranno la vostra quest quali saranno le scene significative quali saranno le conseguenze queste scene andranno a portare ogni volta che inserite un evento all'interno della vostra quest questo causerà delle conseguenze e a seconda di come i giocatori reagiranno all'evento queste conseguenze si ripercuoteranno su tutto quello che avverrà successivamente all'interno della storia volendo fare un esempio concreto diciamo che la prima scena importante della quest è quella in cui i giocatori scoprono un cadavere il collegamento finale che avrà questa scena l'ultima scena della quest sarà quella in cui i giocatori scoprono l'assassino e lo arrestano comunque lo sconfiggono tra la prima scena in cui il cadavere viene ritrovato e l'ultima in cui l'assassino viene consegnato alla poesia ci sarà però tutta una serie di scene intermedie ognuna delle quali avrà una sua connessione logica con le altre ad esempio per catturare l'assassino prima i giocatori dovranno scoprire chi è e dove trovarlo e per scoprire chi è potrebbero cercare indizi nel luogo dell'omicidio oppure sentire i loro contatti nella malavita per farsi dare delle informazioni ognuna di queste scene sarà l'esito e la scena precedente e la causa della scena successiva i personaggi trovano un cadavere quindi eseguono delle indagini dalle quali scoprono l'identità dell'assassino e alla fine l'assassino viene arrestato ognuno di questi collegamenti tra una scena e l'altra è quello che nel metodo del dungeon viene definito un corridoio molti di questi in realtà non saranno neanche decisi dal master saranno semplicemente le conseguenze delle scelte che i personaggi e quindi i loro giocatori avranno fatto nel corso della quest il master si sarà limitato a orientare l'esego di questi eventi per condurre i giocatori verso una delle scene importanti previste alla quest fate però attenzione che la natura dei corridoi non è solo quella di essere un mero passaggio descrittivo che collega una scena con l'altra i corridoi potrebbero essere a loro volta formati da varie scene collegate tra loro da altri corridoi questo perché quello che veramente differenzia i corridoi dalle stanze all'interno del metodo del dungeon non è il loro contenuto ma il loro scopo all'interno dell'algoritmo del racconto quello che avviene in un corridoio infatti a differenza di una stanza non ha lo scopo di andare a orientare la narrazione ma lo scopo di collegare tra i loro i vari punti cioè le stanze in cui verrà orientata la narrazione tra il momento in cui viene scoperta l'identità dell'assassino e quello in cui l'assassino viene catturato potrebbero esserci varie scene i personaggi potrebbero cercare di tendere una trappola ma l'assassino potrebbe fuggire o i giocatori potrebbero cambiare idea e decidere di escogitare un nuovo piano i personaggi potrebbero scegliere la via più diretta e quindi mettersi direttamente a inseguire l'assassino i giocatori potrebbero cercare di riscattare favori che altri png devono i loro personaggi per farsi aiutare potrebbero esserci molte sessioni di gioco tra il momento in cui i personaggi decidono che il loro scopo è quello di catturare l'assassino e il momento in cui l'assassino viene effettivamente catturato ma indipendentemente da quante sessioni e quante scene ci saranno in questo periodo la direzione del racconto oramai è stata stabilita stiamo andando a catturare l'assassino solo nell'ultima stanza quella in cui effettivamente loro si confrontano con l'assassino la storia potrebbe variare in base al fatto che l'assassino venga catturato o riesca a fuggire o venga lasciato libero in pratica all'interno dei corridoi sarà estremamente difficile che i giocatori vadano ad affrontare una di quelle scelte significative di cui abbiamo parlato nel video di qualche settimana fa vi lascio qua sopra il link questo però non deve farvi sottovalutare l'importanza dei corridoi perché per quanto non vadano a orientare la storia è probabile che la maggior parte della storia avvenga proprio all'interno di uno di questi collegamenti logici tra le scene più importanti della quest è qui che la maggior parte delle abilità dei poteri personaggi verranno utilizzati verranno superate delle sfide per raggiungere l'ultima scena ed è anche qui che avverrà la maggior parte dell'interpretazione di ruolo sia dei giocatori tra di loro sia dei giocatori con i vari png con cui dovranno confrontarsi per arrivare al loro obiettivo finale quando preparate i vostri corridoi fate anche in modo che ci siano degli spazi vuoti o comunque la possibilità per i giocatori di inserire elementi personali legati ai loro personaggi dato che qui che si svolgerà la maggior parte del tempo di gioco anche lo sviluppo la crescita o semplicemente la recitazione dei vari personaggi dei giocatori avverrà proprio in questo momento e quindi partite al presupposto che dovrete lasciare spazio anche per queste cose ora tutto questo discorso vale per i corridoi logici all'interno del metodo del dungeon se stiamo parlando dei corridoi fisici di un dungeon il discorso cambia un attimo se non stiamo parlando del dungeon a livello logico ma stiamo parlando fisicamente di un dungeon all'interno della vostra ambientazione i corridoi continuano a essere il momento in cui i personaggi scelgono il loro percorso in questo caso però lo si deve intendere in maniera molto più letterale più largo e complesso sarà il dungeon più i corridoi diventeranno importanti dato che questo sarà l'ambiente preposto del dungeon in cui i giocatori sceglieranno quale strada prendere e verso quale stanza dirigersi questo può sembrare abbastanza ovvio ma non sottovalutate mai l'aspetto psicologico che far spostare i personaggi attraverso i corridoi avrà sui giocatori per quanto i personaggi nel corso della loro quest si muoveranno continuamente da un luogo all'altro dire esplicitamente all'interno della sessione che i loro personaggi stanno percorrendo il corridoio comunque si stanno spostando darà ai giocatori che ovviamente sono fermi seduti al tavolo l'impressione che la storia stia procedendo e si stia arrivando a qualcosa di significativo i corridoi assumono poi un ruolo particolarmente importante per tutta quella che è la cultura dell'OSR dove storicamente i corridoi sono il luogo più irto di trappole e sono il luogo dove incontrare il famigerato mostro errante anche di quello abbiamo parlato in un video in precedenza lo lascio linkato qua in alto in casi più estremi se il focus della quest è proprio quella dell'esplorazione nel dungeon potrebbero esisterci dungeon estremamente complessi fatti per la maggior parte o esclusivamente di corridoi dei veri e propri labirinti in cui la natura tortuosa dei possibili percorsi è il principale ostacolo che si frappone tra i personaggi giocanti e il conseguimento del loro obiettivo che quasi sempre è andarsene dal labirinto anche al di fuori dell'OSR focalizzare una quest sui corridoi e sull'esplorazione è abbastanza comune ed è anche uno degli aspetti più fondamentali di tutti i reverse dungeon i personaggi iniziano da un punto interno alla struttura hanno direttamente accesso ai corridoi ma non sanno dove questi corridoi portano e non sanno come quando raggiungeranno l'uscita del dungeon quindi il fatto di poter girare nei corridoi ma non poter valutare quanto sia favorevole o rischioso il fatto di farlo causa ansia nei giocatori che ovviamente il master può sfruttare per rendere più immersivo il racconto che sta portando al tavolo non pensavate che qualcuno riuscisse effettivamente a parlare così tanto di una roba come i corridoi vero? benvenuti nel canale del master cave diciamo comunque che per questa settimana è tutto ovviamente non abbiamo finito con il metodo del dungeon perché c'è ancora un altro elemento fondamentale dello schema che serve a collegare tutto quello di cui abbiamo parlato tra i loro immagino avete già capito di cosa sto parlando ma lasciamo la suspense per un altro paio di settimane fino ad allora la parola sta a voi scrivetemi nei commenti qui sotto come voi organizzate i vostri corridoi o in generale i collegamenti tra una stanza e l'altra nel vostro racconto e quanta gente avete volontariamente o involontariamente bloccato in un labirinto e ovviamente scrivetemi anche tutte le domande che avete per il complanno del canale se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividete le opete a crescere del canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche se le notifiche non vi arrivano in descrizione trovate i link al server discord al gruppo i telegram dove metto io le notifiche manualmente e dove trovate il resto della community al canale e dove a breve tempo che voi verete questo video cominceremo a parlare dei racconti di halloween per il resto io sono il master kai e noi ci vediamo nel prossimo video